Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, è appena terminata la partita, è appena terminato il derby e sono stracontenta, ma proprio strastra stracontenta perché abbiamo vinto noi, ha vinto l'Inter e sono strafelice per averlo vinto veramente, non era una partita qualunque, si trattava del derby per cui era necessario fare bene anche perché alla prossima prenderemo tante di quelle bastonate dal Napoli che non sto neppure qui a dirvelo perché sono realista e comunque so che andrà così, poi ovviamente non si può mai sapere però il 99% andrà così, era importantissimo vincere questa partita, ora siamo secondi in classifica e che dire, chi mi è piaciuto di più innanzitutto? Quali che mi sono piaciuti di più sono stati Icardi, autore della tripletta, Candreva, oggi Candreva ha veramente fatto una partita bellissima tra l'altro all'inizio è stato anche un po' fischiettato, però devo dire che ha fatto una partita bellissima oggi ed era molto importante fare bene oggi, quindi complimenti a Candreva che tra l'altro, mi riferisco al primo gol ha fatto un cross meraviglioso per Icardi che poi è andato appunto a segno e poi il terzo che mi è davvero davvero piaciuto oggi è stato Vesino io tra l'altro quando abbiamo preso appunto Vesino, ero la prima a dire, quando abbiamo comprato Vesino appunto ero la prima a dire, eh ma avrei preferito qualcun altro, sono dubbiosa così, però devo dire che mi sto ricredendo su questo giocatore perché all'Inter, all'Inter sta facendo bene e oggi ha fatto benissimo cioè ma l'avete visto Vesino nel secondo tempo, grande grande giocatore, veramente ha fatto una partita con i fiocchi Vesino per cui, quelli che mi sono piaciuti di più, Icardi, Candreva e Vesino Perisic, per quanto riguarda Perisic, nel primo tempo non mi è piaciuto perché nel primo tempo non ha neppure toccato un pallone però poi nel secondo tempo si è ripreso, si è svegliato, infatti ha fatto anche lui un bellissimo assist per Icardi che poi appunto è andato a segno comunque, tutto sommato oggi l'Inter mi è piaciuta, mi è piaciuta e alla fine ha vinto la migliore, ovvero noi mi è piaciuta l'Inter, non ha fatto 90 minuti lineari e neppure li pretendo da loro 90 minuti lineari ora come ora, perché comunque l'Inter è una squadra che sta lavorando per migliorare appunto sta lavorando, non è che è arrivata per cui non me li aspetto 90 minuti lineari di gioco pulito, ecco, però primo tempo si è vista solo l'Inter solo ed unicamente l'Inter e chi ha da dire il contrario veramente si nascondesse la testa sotto la sabbia perché siete proprio fuori pista oppure la partita non l'avete vista inter nettamente superiore nel primo tempo abbiamo visto solo l'Inter e Milan proprio evaporato non si è visto niente tra l'altro gravissimo errore di Bonucci mi riferisco sempre al primo gol dell'Inter grande ritardo di Bonucci che lì avrebbe potuto anche in un certo senso salvare quel pallone e infatti su Bonucci qua io aprirei un capitolo perché voi milanisti appena l'avete comprato venivate anche qui a scassare le scatolette Bonucci di qui adesso che abbiamo Bonucci le vinceremo tutte così, colà ma dove? ma dove? cioè Bonucci non sta proprio facendo un grandissimo lavoro in difesa al Milan ovviamente alla Juve è tutto sto grande giocatore perché aveva anche una squadra notevole alle spalle però il Milan quest'anno senza dubbio ha fatto un mercato notevole avete fatto comunque acquisti di un certo spessore e tutto quanto nessuno lo mette in dubbio ma devi amalgamare il tutto devi creare intesa tra i giocatori ovviamente sì e voi non so pensavate di farlo così in un mesotto in due mesi ovviamente no c'è bisogno di un grande grandissimo lavoro soprattutto nel momento in cui fai delle modifiche così notevoli appunto ad una squadra per cui ecco il Milan veramente ha tantissimo ancora da lavorare se visto stasera il secondo tempo è stato più combattuto perché il Milan ovviamente è partito molto meglio ma io lo sapevo perché dopo che hanno dormito per 45 minuti ovviamente me l'aspettavo un risveglio da parte del Milan quindi non mi ha stupito più di tanto il secondo tempo è stato più o meno così Milan-Inter 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 un po' l'una un po' l'altra però voglio dire tutto sommato ha giocato meglio l'Inter comunque secondo tempo diciamo non mi sbilancio molto ecco perché nel secondo tempo comunque il Milan si è visto ha cercato di anche di pareggiarla la partita infatti io alla fine comunque stavo tremando perché ho detto no vi prego un pareggio all'ultimo all'ultimo come l'anno scorso vi prego no però comunque l'Inter ha vinto io sono stracontenta per aver vinto che vi devo dire raga sono strafelicissima di aver vinto il derby per cui non so fatemi sapere quello che ne pensate voi non c'è molto da dire quando si vince perché ovviamente si è contenti i problemi cominciano quando si perde e spero veramente che l'Inter quest'anno faccia un campionato decente non dico eccellente ma almeno decente dai sono soddisfatta questa partita mi è piaciuta l'Inter mi è piaciuta e fatemi sapere voi quello che ne pensate io vi do appuntamento al prossimo video e sempre forza Inter Grazie a tutti